Mi sembra evidente la sua posizione, ma per ritornare alla questione politica di fondo, sull'obbligo, ma prendiamola a partito da quel che ha detto oggi il generale Figliuolo, l'obiettivo è coprire il 60% di under 19 prima che aprano le scuole, quindi l'obiettivo sempre con il convincimento per carità, ma e qui la domanda è anche allo storico Paolo Miele, noi abbiamo passato un anno e mezzo nel cuore della pandemia usando la metafora della guerra, siamo in guerra contro il vaccino, Zingaretti qualche settimana fa su un Corriere ha detto... Contro il virus. Contro il virus, giusto, lapsus, vedi? Zingaretti l'altro giorno ha detto ci sono chi non si vaccina e come fosse un disertore, quindi anche lui ha usato la metafora della guerra. E allora se è vero questo contesto che abbiamo descritto e che anche molti i virologi hanno raccontato della guerra contro il virus, a un certo punto l'obbligo sarà quanto mai necessario per arrivare a quell'obiettivo del 60% prima di settembre. Cioè ti vuole stratega di guerra, l'atte della guerra. Chiariamolo bene, bisogna vedere se è efficace. Allora, e noi senza fare una storia tra prontana abbiamo l'esempio degli Stati Uniti. Durante i suoi primi 100 giorni Biden è riuscito a vaccinare quasi il doppio delle persone che aveva previsto. Poi invece, quando siamo arrivati all'ultimo miglio, Fauci l'altro giorno ha lanciato un allarme e guardate, è l'ultimo miglio, non è perché loro siano vili o c'è borghi e bagnai o ci sono, hai capito? È l'ultimo miglio. Beh, anche lui i suoi borghi, anche gli Stati Uniti saranno i suoi borghi. dei quali noi abbiamo commesso degli errori. Voglio ricordarvene uno. Allora, noi saremmo molto più avanti nella campagna vaccinale perché a un certo punto, se avessimo seguito, gli open day che a un certo punto il generale Figliuolo fece. Dopo il primo open day ci fu una ragazza, una storia terribile, che ebbe una trombosi e morì. e a parte la riflessione, il giusto dolore per quella ragazza, ma il generale Figliuolo fu azzannato e fu detto che gli open day erano una stupidaggine clamorosa, che era una vergogna, che bisognava avere un certificato medico. Te li ricordi quei giorni? Il danno subliminale provocato da quelle giornate è enorme perché tante persone intorno a me, per esempio, si sono convinte che se hai meno di 40 anni e il medico non ti ha detto guarda, abbiamo fatto un check-up e tu lo puoi fare, puoi avere delle conseguenze. Tipo una trombosi, eh no, ma l'abbiamo fatto noi. L'abbiamo fatto noi con l'istituto. Non è, l'abbiamo fatto noi con l'istituto. Se sta la informazione, perché Paolo è vero che se ti dicono un caso ogni 100.000 è a rischio, poi quando quel caso ogni 100.000 è una ragazza con il nome e cognome, i capelli biondi, diventa un altro fatto, c'è l'elemento emotivo. No, non era solo la ragazza, era quello su cui mi fisso, è che fu abzannato ai polpacci il generale Figliolo e fu gli Open Day, capito? Allora, un conto è commuoversi per la ragazza e siamo d'accordo. Un conto è che abbiamo mandato a monte un mese, due mesi di Open Day, è chiaro questo? Cioè, i ragazzi che si andavano a vaccinare non si sono più andati a vaccinare per responsabilità nostra, cioè noi di noi quattro. Però bastava fidarsi di quello che è Ema, cioè l'ente europea, perché Ema ha sempre detto la stessa cosa. Tutti fecero marcia indietro. Vedo per gli ascoli asserisce. Adesso è facile ridire, facciamo gli Open Day, mandiamo i ragazzi, su, su ragazzi, andiamo. Ma perché quel giorno ci tirammo indietro, e io metto in causa a noi, perché è facile dire che fu, non so, i timori di Figliolo, perché ci tirammo tutti indietro? Se è giusto vaccinare tutti e arrivare all'80%, perché per due mesi gli abbiamo detto no, bisogna prima fare un certificato medico? Che fu quella cosa?